Archiviato dal Tribunale di Arezzo il caso della cena elettorale di Piercarlo Padoan, vicenda che coinvolgeva Antonio Moretti, l'imprenditore del vino e della moda, finito al centro di un'inchiesta sull'autoriciclaggio della Guardia di Finanza. L'evento in questione risale al 4 agosto 2018, quando a Foiano fu organizzata l'iniziativa a supporto dell'ex ministro dell'economia, candidato al Senato e poi eletto nel Collegio di Siena, di cui Foiano fa parte. L'ipotesi era quella di finanziamento illecito ai partiti, incentrata sui costi della cena a 4.000 euro circa. Ospite dell'appuntamento elettorale del PD, Padoan, aveva partecipato alla cena, che secondo la ricostruzione era stata pagata da una delle società riconducibili ai Moretti. Ma nell'inchiesta è emersa una situazione diversa e non configurabile come reato. Oltre all'importo esiguo, è infatti risultato che Moretti tenne un'esposizione dei suoi vini della tenuta a Sette Ponti, con fatture alla ditta di catering, che si occupava degli eventi. Da qui la prima richiesta del PM Andrea Claudiani di archiviare il caso e poi il decreto del GIP Fabio Lombardo. L'archiviazione riguarda anche Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale e trasporti alle infrastrutture Roberto Tiezzi, entrambi del Partito Democratico, risultati totalmente estranei alle contestazioni.